Musica Let's go Butchers Benvenuti a questo nuovo video in cui vi parlerò Della nuova patch che è stata fatta ieri Su Black Ops 3 e su tutte le console E in questo caso vi parlerò di tutti i cambiamenti Ma ci sono dei cambiamenti, delle piccole cose Che non sono state dette Che non sono oltre a questo state dette Ma non sono nemmeno state segnate All'interno del patch log Cioè della pagina dell'Activision Dove segnano tutti i cambiamenti che ci sono stati Su Call of Duty Black Ops 3 In questo caso voglio anche dirvi una cosa Che ci sarà un piccolo speciale con Rampage Riguardo il decimo specialista Sì perché sono uscite delle foto Sono uscite diciamo delle informazioni in alcune mappe dei DLC E altre cose che vedrete più avanti Per prima cosa voglio ringraziarvi a tutti Il canale sta andando benissimo Stiamo facendo tutto questo da soli E vi ringrazio Non vedo l'ora di mettere gli altri episodi Delle nuove serie Mi dispiace oggi avrei dovuto mettere Power Personal Trainer E in questo caso non ci sono riuscito Perché già ho dovuto fare questo video sulla patch Quindi mi dispiace Ma come vi ho detto Appena ho modo Appena penso domani in questo caso Metterò subito il video Power Personal Trainer Che è l'allenamento che faccio io Sempre ogni giorno Prima di andare in streaming Oltre comunque a Power Personal Trainer Che ci saranno vari episodi Che dovrò fare Alcuni come vi ho detto Non li metto tutti di fila O sempre perché Secondo me devo farvi pure Creare un pochino di interesse tra questi allenamenti E secondo me metterne tanti velocemente Poi rischia che voi li fate tutti di seguito velocemente E non riuscite a migliorare Serve un po' di costanza e di impegno Per poter migliorare comunque Su Call of Duty E spero che con questi allenamenti Ce la farete Allo stesso modo per i Segreti dei Pro Stessa cosa Come sapete vi chiedo sempre di Dare una montagna di like ai Segreti dei Pro Perché quando vedrò che siamo a una cifra A una montagna di like Fatemelo dire nel romano Io vi metterò il prossimo episodio Come sempre con altri segreti o trucchetti Che magari non conoscete O che comunque già conoscete Ma che potete utilizzare e migliorare Ma ora andiamo subito all'interno della patch E vediamo cosa è cambiato Ieri chi era in streaming con me Ha visto che abbiamo fatto un pochino di test Un pochino di prove Direttamente in live streaming E quindi sono contento che l'abbiate potuto vedere già Diciamo lì Durante lo streaming su Twitch Ma in verità Poi ho rivisto i video Ho messo in pausa Ho fatto un pochino di prove Eccetera eccetera E questi sono i veri cambiamenti Che ci sono stati Ma ora partiamo subito dall'inizio Sono stati diciamo Fatti un pochino di cambiamenti Al gioco in generale Per evitare crash Per evitare problemi con le lobby Bug e cose varie Allo stesso modo Nelle mappe sono cambiate molte cose Per esempio su Twitch In postazione E' stata cambiata la rotazione Degli art point Delle postazioni Cioè Prima si entrava dentro La postazione di Palace Quella a destra O tappeti Come la volete chiamare Ora invece La prima postazione Sarà quella al centro Cioè la numero 3 Quella nella casetta centrale Al centro della mappa di Bridge Allo stesso modo E' stato tolto quel bug Se si può dire così In cui si poteva contendere O comunque fare punti All'interno della zona di postazione Nella postazione di palazzo Sempre Dietro al muro Facendo il war run E saltando in uno spot particolare Ora non ci si può più andare Si cade di sotto Tra l'altro Quindi No worry Oltre a questo E' stato fatto la stessa cosa Su Combine Perché c'erano delle zone In Combine Della terza postazione In questo caso In cui era possibile Contendere la zona E fare punti Allo stesso tempo Proprio Da questo posto Buggato Che ora è stato levato Sono stati cambiati In quasi tutte le mappe Specialmente In quelle del nuovo DLC Gli spawn In modo da prevenire Che i giocatori Potessero andare sotto la mappa E morire Cosa che succede tantissime volte In Cerche e Distruggi Non so se vi è mai capitato Perché in Cerche e Distruggi Quando spawnate Voi praticamente mettete I piedi a terra E poi Il vostro personaggio Va sotto terra E muore Succede tantissime volte Specialmente quando parte il round E scivolate Sono stati levati comunque Tutti questi bug E glitch A diverse mappe E tra l'altro Una delle cose Secondo me fondamentali Hanno tolto Penso e spero Tutti i bug E glitch Di splash Non si può più Andare sopra la mappa Anche se in verità Diciamocelo fra noi In verità Si può ancora andare sopra la mappa C'è un altro modo Ma io non ve lo racconterò Perché non sono qui Per dirvi queste porcate E sinceramente Non voglio che voi Facciate queste porcate Specialmente Quindi Permettetemi Che io non vi dirò Come si fa Il nuovo bug di splash Oltre a questo Bisogna parlare anche Di altre cose Per esempio Delle modalità Su uplink E' stato rimosso La mira assistita Quando si porta Il drone Cioè Ora avete visto Quando voi tiravate la palla A un giocatore Molte volte Nel 90% dei casi Riusciva a tirarla E fare lo scambio Lui prendeva in mano Il drone E voi gli sparavate Ok E' stata tolta la mira assistita Il drone Quindi ora è molto più difficile Fare questo Quindi è Diciamo Che non si creano più Quelle situazioni In cui I giocatori Si tirano la palla Di continuo E si sparano Tra un lancio E l'altro Cercando di uccidersi A vicenda Poi Parliamo anche Delle scorestreak Cioè Delle serie di punti In questo caso Una delle serie di punti Che ho cominciato A utilizzare da poco Ma ho dovuto smettere Perché quando lo utilizzavo Tutti quittavano E sto parlando Del nucleo energetico Non è solo diminuito Il suo costo A 1250 punti Ma è stata aumentata Anche la sua durata Di 60 secondi E tra l'altro E' stato messo Una sorta di E' stato fixato In questo caso E' stato patchato Un bug In cui quando si attivava Il power core Praticamente O il nucleo energetico Praticamente non distruggeva I gunter UAV O gli UAV In questo caso Li distrugge completamente E' come una sorta di MP che viene tirata Ma i cambiamenti Non si fermano qui Come avete potuto vedere Dai test di ieri Sono stati cambiati Anche gli specialisti In questo caso Sono cambiati Reject Quello che ovviamente Vi fa respawnare E' cambiato anche Dell'outrider Lo sparro Cioè l'arco E anche il tempest Del prophet Ma cosa è cambiato? Bene Allora Il nomad Con la sua abilità reject Quando Diciamo Voi morite E attivate Diciamo Reject si attiva Voi potete decidere Di morire Di non respawnare Perché tante volte Siete in una situazione Svantaggiosa E non conviene Rianimarvi In questo caso E' stato aumentato Il potere Dello specialista Che rimane Quando decidete Di terminare Il reject Invece di utilizzarlo Per quanto riguarda Lo sparro Lo avete visto ieri Che lo stavo utilizzando Io durante i test Ebbene E' stata aumentata L'abilità Di colpire i nemici Devo dire che ora Le frecce Praticamente Curvano In un modo assurdo Altro che Arrow Altro che Cioè non so che dirvi E' incredibile Una cosa Altro che Wanted Con Angiolina Scioli Che fa curvare i proiettili Ora le frecce dello sparro Praticamente Si agganciano Un bersaglio Curvano Anche se non vengono Caricate al massimo E devo dire che ora Diventa lo sparro Uno specialista Molto più divertente E utile da usare Cosa che farò Molto di più Quando finirò Di fare Tutti gli specialisti oro Che me ne mancano Due tre Sinceramente è molto divertente Quindi Secondo me Può essere divertente E anche forte Ora da utilizzare Specialmente perché Poi le frecce esplodono E se voi Caricate al massimo L'arco L'esplosione Può uccidere un nemico Per quanto riguarda Il Tempest L'avete visto sempre ieri Mentre lo utilizzavamo E' stata aumentata L'abilità sempre Di colpire i nemici Allora Devo dire che Questa cosa Comporta due fattori Primo L'automira Cioè Quanto è possibile Colpire un nemico Attraverso il Tempest Perché Aveva pochissima Automira ma aveva un grande raggio In cui si poteva colpire un nemico Tutta la crocetta Basta che è illuminata di rosso In un punto Voi potete colpire un avversario Che si trova all'interno Di quelle enorme croce Al centro dello schermo Oltre a questo Come potete vedere Dalle prove fatte ieri Praticamente Pare che è aumentata Di un pochino Di un peletto di più La distanza A cui si concatenano I fulmini del Tempest I fulmini La scossa elettrica Come la volete chiamare Quindi potete vedere Dai test che abbiamo fatto ieri Quello che è successo Ma i veri cambiamenti Che ci sono stati Sono nei fucili d'assalto E non sto ancora parlando Di quelli che sono I cambiamenti segreti O confidenziali Di cui non ne hanno ancora parlato Per quanto riguarda I fucili d'assalto L'ICR L'HVK E lo Sheva È stato aumentato Il danno Che fanno Alla distanza più lunga Cioè alla massima distanza Come sapete Le armi hanno una sorta Di decadimento Della distanza Più aumenta La portata Ma cosa vuol dire Questa cosa? Vuol dire che uccidono Con un colpo in meno? No Non vuol dire Che uccidono con un colpo in meno Non vuol dire questo Vuol dire solamente che Se un'arma Faceva prima 20 di danno O 21 O 22 di danno Alla massima distanza Ora Il suo danno È aumentato In modo che Vi ferisca di più In modo che Se voi magari Vi lanciate da un tetto O venite feriti Da un proiettile Di un SMG O comunque di un'altra arma Di un qualsiasi altro tipo di danno Voi abbiate più probabilità Di morire Questo è stato fatto Perché queste armi Comunque Sparavano a distanza Non erano forti come altre Ma Quando voi sparavate a distanza Facevate un danno ridicolo E quindi in questo modo Hanno Diciamo Aumentato il danno Di queste armi In modo che voi Diventiate più Feriti O comunque deboli Prima in questo caso Quindi se Prima bastavano 5 proiettili con l'ICR Per uccidere da lontano Ora ne servono sempre 5 proiettili Non vi preoccupate Cambia solamente Che Ogni singolo colpo Da quella distanza Farà un pelino più male E quindi diventerete Più rossi Facilmente Allo stesso tempo Dei fucili d'assalto È stato cambiato Il KN44 Cosa è stato cambiato Del KN44 Anche qui Diciamo Il danno Alla distanza Media Non lontana Cioè ora Farà un pelino in più Di danno il KN Cosa secondo me giusta Perché aveva questo problema Un'arma molto forte da vicino Da lontano al suo Perché? Perché ha una buona portata E un alto danno Ma allo stesso tempo Da media e distanza C'era qualcosa che non andava Cioè si perdevano Dei gunfight Così A buffo E invece come potete vedere Dai test I proiettili sono sempre gli stessi Non utilizzavo canna lunga Quindi non vi preoccupate Quindi Quello che vi posso dire Il KN44 Ora farà un pelino in più Di danno Dalla media distanza E quindi metterà I nemici Diciamo Molto più facilmente Weak Feriti Come lo volete dire Rispetto a prima Oltre a questo Dovete anche pensare Che se voi andrete a colpire Un nemico ferito Sicuramente lo ucciderete Magari con un colpo in meno Rispetto a prima Perché in questo caso Il KN avrà un danno Sicuramente maggiore Alla media distanza Stessa cosa Nei CR HVK E Sheva Anche qui Per quanto riguarda Gli SMG Ci sono stati dei cambiamenti Abbiamo già visto Il nerf del Vesper Cioè che è stato depotenziato Nerf significa depotenziato È stato ridotto Il rinculo di quest'arma E vi ho già spiegato Come poter controllare Il rinculo del Vesper In un video scorso Mi pare di uno o due giorni fa E allo stesso tempo Un altro cambiamento Che è stato fatto oggi Che non era stato detto E non era stato ancora fatto È il fatto che Quando si spara con il Vesper In hipfire Cioè senza mirare Beh nella sua Il suo hipfire È stato ridotto notevolmente Cioè è stato allargato I colpi non si collegano Cioè non si connettono più Così come era un tempo Quindi questi sono i cambiamenti Fatti al Vesper Per quanto riguarda il Vivil Che era una delle armi Secondo me Più valide da utilizzare In questo momento Eccetera eccetera È stato fatto un cambiamento Ma in questo caso Nella modalità Veterano E cosa è stato fatto È stato aumentato Il danno che fa Alla distanza media Con quest'arma E devo dire che non è un cambiamento Forse in veterano Si noterà sicuramente Ma non influirà Niente nella modalità Nucleo O normale O standard Come la volete chiamare L'ultima cosa che vi voglio dire Sulle armi È il locus All'ocus È stato aumentato Dalla velocità Di switch Cioè di cambiare l'arma Cioè voi quando premete Il tasto triangolo O Y Nel tasto che utilizzate voi L'arma si cambierà Molto più velocemente Per quanto riguarda Le info segrete Ne ho una qui per voi È stato cambiato Estrazione rapida Su alcuni SMG Mi raccomando Non divulgatele No scherzo Sto facendo il video Potete farlo tranquillamente Cosa vuol dire È stato cambiato Estrazione rapida Sugli SMG Bene Il CUDA E il VMP Quando non sarete in corsa Avranno Diciamo Una modalità di mira Cioè passare da non mirare A mirare Molto più lenta Anche se hanno estrazione rapida Questo perché Perché comunque Sono delle armi Molto forti Possono uccidere Fino anche a media Lunga distanza Se siete dei giocatori Molto precisi E bravi E quindi hanno voluto Trovare un modo Per evitare che la gente Non stia ad utilizzare Queste armi In head glitch O comunque Come se fossero Dei mini AR Perché il CUDA Con la sua precisione Può essere considerato Una sorta di mini AR Ha un'ottima mobilità Uccide in una velocità Incredibile Da vicino Il VMP con il suo radio di fuoco Stessa cosa Quindi è stato fatto questo Per evitare Diciamo che Inizi a sparare subito Nei gunfight Allo stesso modo Se utilizzate invece Prestigiatore Questa cosa non cambia Si nota solamente Se siete fermi Non state correndo O non avete prestigiatore Quindi mi raccomando Tenetevi in testa Questa cosa Che con estrazione rapida Su questi due SMG La velocità con cui mirerete È molto più lenta Se non siete in corsa Oltre a questo Vi voglio parlare Di un'ultima cosa E sto parlando Del decimo specialista Ieri ho condiviso la foto Ieri ne ho parlato Non è che ne ho parlato Ho condiviso delle foto Riguardanti il decimo specialista Che tra l'altro Dovrebbe essere Rick Tofend Come molte persone hanno detto E sapete cosa ho fatto? Bene Ho detto Chiamiamo il nostro Piero Angela Di Call of Duty E sto parlando di Ivan Motherfucking Reco Rampage in the Box Quindi lascio parlare lui Eccezionale ragazzi E bello a tutti Sono Rampage in the Box Quest'oggi sono qui sul canale Di Power Perché Pare che sia confermato L'arrivo del nuovo specialista Del decimo specialista Ragazzi È uscita una foto Molto compromettente Che ritrae Quest'ultimo Ovvero Rick Tofend Ragazzi Il personaggio famoso Della saga zombie Di Call of Duty Sta per diventare Uno specialista Questo è un punto interrogativo Molto importante Scopriremo presto Se sarà confermata Questa notizia Fatto sta Che avrà due abilità Niente male Ragazzi Io prevedo già Dei video favolosi La prima È l'utilizzo Della Reagan Ragazzi La pistola Eccezionale Della modalità zombie Io non vedo l'ora Perché penso che Fare un nuclear Con quell'arma Ma pensate Che figata Potrebbe venire fuori Ragazzi Immaginatelo soltanto O comunque Una serie Road to Reagan Qualcosa di epico Insomma La seconda abilità Invece è una specie Di liquido Una specie Di getto Paralizzante Come tra l'altro Vi avevo anticipato Anche qualche tempo fa Sul mio canale Facendo un video Proprio a riguardo Di questo specialista Quindi ragazzi Allacciamo le citture Perché probabilmente Sta arrivando Rick Toffen Eccezionale Un salutone Alla prossima Ragazzuoli Beh direi che Un like È d'obbligo Per il nostro Piero Angela Aka Ivan Griego Rampage in the box Lo ringrazio Diciamo Per essere stato Qui sul mio canale Aveva fatto Già lui un video Riguardo Il decimo specialista Quindi vi invito A vederlo Su il suo canale Quindi ho detto Perché non invitarlo Ho visto questo screen L'ho postato L'ho pubblicato ovunque Prendiamo Una delle persone Che hanno già parlato Diciamo Di questo decimo specialista E vediamo Cosa ne pensa Ma quali sono I miei pensieri Su questo decimo specialista Bene Secondo me È un fake Enorme È un fake Enorme E non sarà Sicuramente Rick Toffen Ci sarà un decimo specialista In futuro Come ci saranno Delle nuove armi Aggiunte nel mercato nero Che saranno Secondo me Solamente Delle reskin Delle armi Che ci sono attualmente Per esempio Il Kuda Secondo me Potrebbero fare Tranquillamente Un reskin Delle mp5k Di black ops 1 Comunque Siamo arrivati Alla fine del video Io spero vi sia piaciuto Il gameplay di sottofondo Io spero vi sia piaciuto Vedere come abbiamo Testato le armi Spero che vi sia piaciuto Diciamo Il nostro Ivan Griego Qui sul canale Il nostro rampage Qui a commentare Per il decimo specialista Io vi saluto Butchers Ci becchiamo Al prossimo video E oggi Ci becchiamo anche In streaming Spero che vi sia piaciuto E anche tutte queste informazioni Let's go Butchers